È evidente che c'è qualcosa e non dico che ne dobbiamo parlare adesso, solo che non vedo perché tu debba negarlo. Non lo nego. Ora stai negando di stare negando. No, sto negando che ci sia qualcosa da negare. Non puoi fare così, non puoi nascondermi le cose. C'è un problema con la riunione su Dybala. I valori dell'HDL iniziali non corrispondono con quelli di un esame successivo. È molto strano. Sì. Non è grave. Il colesterolo non c'entra con la sua morte, però dopo essere stato licenziato dal Mersi e quella storia del processo A13, Foreman ha paura che possano contestare il suo operato. Ma è ridicolo, dovrebbe sentirsi sicuro. Lui ha fatto la diagnosi giusta, noi lo abbiamo dissuaso. Lo so. Non dirgli che te l'ho detto. Non vuole mostrare segni di debolezza, specie ora che House sostiene che vuole lui a comando. Va bene. Grazie. 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 Grazie.